Tra le altre grandi passioni di Giacomo Puccini trovano un posto d'eccellenza anche i motori. Che si tratti di automobili, motociclette, motoscaffi o yacht poco importa. Il maestro era attratto soprattutto dalla velocità e dal fascino della modernità. Dopo essere rimasto impressionato dall'esposizione internazionale dell'automobile del 1901 a Milano, Giacomo Puccini acquista in luglio, per la favolosa cifra di 3.800 lire, una Dédion bouton 5 cavalli con cui quando sfrecciava sulle polverose strade della Versilia suscitava ammirazione e stupore. L'automobile, dopo l'acquisto delle ville di Torre del Lago e Chiatri, rappresentava anche il riconoscimento del suo successo. Dopo tanti anni di lavoro, sacrifici e ristrettezze economiche, il maestro si concedeva così ricchi premi. Con queste prime macchine, i guasti erano all'ordine del giorno e spesso non era possibile ripararle in tempi brevi. In una lettera a Carlo Benedetto Ginori Lisci, il maestro scrive Carissimo signor Marchese, per guasti automobilistici chiese ospitalità alla peggetta. Colmato di gentilezze, parto ringraziandola tanto e arrivederci presto. Ritorno ai monti dopo la noia impera alternata col fresco. Mille cordiali saluti dall'affezionatissimo amico Giacomo Puccini. Le automobili saranno per il maestro fonte di grandi gioie e talvolta anche di piccole e grandi preoccupazioni. E per far fronte a queste ultime, si avvarrà dell'aiuto di autisti capaci anche di riparare i frequenti guasti. Il suo secondo automezzo fu una Clement Bayard e sarà un acquisto per alcuni versi sfortunato perché nella notte del 25 febbraio 1903, ritornando a Torre del Lago da Lucca, con la moglie Elvira e il figlio Antoni, l'autista, a causa di una sbandata su di una strada sterrata, la Clement precipitò in un fosso. Il maestro riportò una grave frattura alla tibia destra e rimase quasi asfissiato dai gas dell'auto. L'autista, invece, ebbe il fremore fratturato, mentre moglie e figlio fortunatamente ne uscirono quasi illesi. Puccini venne quindi trasportato in carro lettiga fino alla piaggetta, alla villa del conteggino a Rilisci, e di lì arriverà a casa, sulla sponda opposta del lago di Massaciuccoli, trasportato su una barca. La lunga convalescenza, l'impegno in Italia e l'estero, il matrimonio con Elvira, nonché la composizione e la travagliata prima dell'opera Madame Butterfly, resero il 1903 e il 1904 anni difficili per il maestro, che non lasciarono tempo per dedicarsi ai suoi amati motori. Ma già nel 1905 acquista una Ciseno d'Ain bianca e nel 1906 gli venne rilasciata la patente, le Permis de Libre Circulation Internationale, dal Touring Club italiano. Nonostante l'incidente, i motori occuperanno sempre uno spazio speciale nel cuore del maestro. Tra il 1909 e il 1919 acquista un Isotta Fraschini 30 HP e alcune Fiat. È del 1909 una poesia scherzosa scritta da Basilea alla sorella Ramelde. Comprai vettura carina tanto, che come un guanto scivola ben. È a dimensione più piccolina. Vendei vecchione le due vetture. Ora ho la grande e la piccina. Che poverina! Pare il vapor! Sempre nel 1909 il maestro acquista uno yacht con il quale si detta solcare in lungo e in largo le acque del Mar Ligure e del Mar Tirreno. Lo yacht fu battezzato Ciocio Sanni in onore della protagonista di Madame Butterfly e pagato la somma di 40.000 lire. L'acquisto di un'imbarcazione così ambiziosa e costosa può essere stato dettato dal desiderio di dimenticare le amarezze patite a causa di una vicenda drammatica accaduta nel gennaio di quell'anno. Una giovane domestica di casa Puccini, Doria Manfredi, era stata accusata dalla moglie del maestro di essere l'amante del marito. All'accusa era poi seguito il suicidio della ragazza spinta dalla vergogna. Ancora prima dello yacht, Puccini possedeva già altre imbarcazioni, vari motoscafi, tra con un ricochet con il quale il compositori sulcava con immenso piacere le tranquille acque dell'adorato lago di Massaciuccoli. Naturalmente, nella darsena del maestro, venivano alloggiati vari barchini per la caccia nella palude. In una lettera conservata nei nostri archivi, datata 17 dicembre 1910, spedita da New York dove si trovava per la prima della fanciuda del West, scrive alla moglie Elvira Oggi ho comprato una canoa come quella verde che avevo, ma a quattro cilindri, lire 2.500, ma stasera Maxwell mi ha combinato un autografo, il waltzer di Musetta e il racconto di Rodolfo scritto di mio pugno per 500 dollari, uguale a 2.500 lire, sicché ho la barca gratis. Nel corso degli anni, le auto diventerò sempre più affidabili e comode, adatte anche a lunghi viaggi con la famiglia, ma del tutto inadatte all'uscita a caccia. Fu per questo che acquista un'ambulanza americana, simile probabilmente ad una jeep, perfetta per la caccia in maremma. Nacque forse così, uno dei primi modelli di fuoristrada al prezzo di 35.000 lire, una cifra esagerata per quel tempo. Nell'agosto del 1922, il maestro organizzò un lunghissimo viaggio in automobili attraverso l'Europa. La comitiva di amici prese posto su due vetture, la Lancia 3K di Puccini e la Fiat 501 dell'amico Angelo Magrini. L'itinerario comprendeva Austria, Germania, Olanda, Foresta Nera e Svizzera. Non possiamo non citare la grande novità tecnologica di inizio novecento, l'aeroplano. Puccini subisce da subito il fascino del volo e infatti assisterà al circuito aero internazionale di Brescia nel settembre 1909 in quello che sarà il battesimo dell'aviazione italiana. Un documento appeso nella Sala Trionfi del Museo attesta che Puccini venne nominato socio a vita della Lega Aerea Nazionale anche se il suo malgrado non provò mai il brivido del volo. La sua ultima auto fu ancora una Lancia, una Lambda, consegnata lì nella primavera del 1924. Il 18 maggio dello stesso anno Puccini scrive La Lambda Ava Benone per me è la migliore macchina odierna di poco consumo e di grandi risorse. Con quest'auto compì il suo ultimo viaggio. Era il 4 novembre del 1924 quando si ricò alla stazione di Pisa per prendere il treno che lo portò a Bruxelles. Qui, a seguito di un intervento per rimuovere il tumore alla gola, muore il 29 novembre. Ecco che questa grande passione di Puccini per i motori e per la velocità riflette in qualche modo il suo carattere requieto nonché la sua continua ricerca di nuovi stimoli sia nella vita che nella musica. di Puccini per i motori per i motori che la sua continua ricerca di Puccini per i motori